Cinema, televisione, musica, arte, letteratura e la cultura mainstream del presente. L'Università degli Studi di Teramo e il corso di laurea magistrale MAC, acronimo di Media, Arti e Culture della Facoltà di Scienze e della Comunicazione, hanno lanciato la prima edizione dei MAC Talk, un ciclo di conferenze tematiche con la partecipazione di docenti e studenti dell'Ateneo. Il primo incontro dei MAC Talk, che si è svolto nella corte interna della Biblioteca Delfico di Teramo, ha avuto come tema culture pop e industria creativa, un confronto serrato sui media e sulla loro evoluzione nel mondo dell'industria creativa per capire quale direzione stanno prendendo con l'avvento delle nuove tecnologie e per immaginare le tendenze del futuro. Il tema è appunto culture pop e industria creativa e sono due delle parole chiave del percorso di studi, appunto media, arti e culture. L'industria creativa è uno dei settori più promettenti dell'industria italiana e quindi è anche un'ottima possibilità di aggancio di lavoro per gli studenti. Ma soprattutto la cosa importante è che ci piaceva parlare di cultura in un modo diverso da quelli tradizionali. Ci siamo ispirati ai TED Talks come modello espositivo perché ci sembrava necessario parlare di cultura attraverso le forme contemporanee appunto della pop culture, della cultura pop e del modo più popolare possibile di parlare a tutti. L'università è un luogo trasparente che è a contatto con le persone, non solo forma gli studenti, ma è anche un agente diciamo di produzione di cultura sul territorio e deve usare le parole che servono a fare cultura nel territorio.